Bene, dopo aver visto quanto riguarda le relazioni tra insiemi, gli insiemi numerici, le operazioni con i numeri e la loro estensione fino ai razionali, oggi affrontiamo un tema che è il calcolo letterale, che cosa si intende per calcolo letterale? Se volete una generalizzazione del calcolo, facciamo un esempio molto semplice, se avete un esempio, immaginate di avere un rettangolo, e di sapere che il lato orizzontale del rettangolo misura che ne so 4, il lato verticale 2 e vi chiedete quanto è l'area, la superficie del rettangolo sarà 4 per 2, cioè 8, in qualsiasi unità prendiate le misure. Ma è chiaro che il risultato dell'area dipende dai valori 4 e 2 delle dimensioni del nostro rettangolo, però qualunque sia il rettangolo la procedura di calcolo è sempre la stessa, quindi posso generalizzare questa procedura dando il modo in cui calcolo l'area per qualsiasi valore dei due lati e per intendere questo introduco dei simboli o delle lettere, la base la chiamiamo B, l'altezza A e quindi l'area A grande sarà il prodotto della base per l'altezza, ok? Questa in realtà è una procedura di calcolo, o se volete con un termine un po' più altisonante, un algoritmo, cioè come calcolo una grandezza che mi interessa, quindi prendo la misura della base e la moltiplico per quella dell'area, dell'altezza, indipendentemente da quanto valgono. Qualunque sia il rettangolo che ho a disposizione, questo è quello che faccio per calcolare la superficie, d'accordo? Questa espressione comporta quindi delle lettere che rappresentano dei numeri senza specificarne il valore. Qui in particolare ho due lettere moltiplicate l'una per l'altra. C'è una domanda? Sì, le volevo dire che non si sente molto bene e vengono in ritardo le scritte sulla lavagna. Ah, questo ahimè è dovuto dalla linea, mi dispiace, cercherò di parlare un po' più piano e un po' più lentamente. Questa particolare struttura, cioè lettere moltiplicate l'una per l'altra, A per B, prende il nome di monomio. Che cos'è un monomio? Un monomio in generale è fatto da numeri e o lettere, tutti moltiplicati tra di loro. Se per esempio prendiamo nel caso di un triangolo, prendo sempre argomenti di geometria perché sono più semplici, questa è la base, questa è l'altezza, allora l'area è un mezzo della base per l'altezza, anche questo è un monomio. quindi è una sequenza, il monomio in generale in algebra è un insieme di lettere e o numeri, tutti moltiplicati tra loro. Quindi per esempio, che ne so, 3x è un monomio. 5xy è un monomio, un terzo xy è un monomio perché anche se c'è il 3 al denominatore qui, quindi 1 diviso per 3, questo rappresenta un unico numero. Un terzo, possiamo benissimo scriverlo come 0,3 periodico. Quindi un terzo in realtà è un numero solo. Questo invece non è un monomio. 2x fratto y, no. Perché? Perché tra x e y c'è un segno di divisione, non di moltiplicazione. Ok? E ancora, 2x più y non è un monomio perché tra x e y c'è un'operazione di somma, non di moltiplicazione. Ho monomi solo se ho numeri e ho lettere moltiplicati tra loro. Che possono, attenzione, i numeri possono avere anche segni diversi, ad esempio meno 3ab è un monomio. E così via. In un monomio in generale, facciamo per esempio che ne so, più 12x alla seconda y, quindi questo è un monomio, avrò un insieme di lettere, questa si chiama parte letterale, mentre il numero che sta davanti alla parte letterale prende il nome di coefficiente. Non mi ricordo se ci vuole, io non penso di no. Ok? Il coefficiente può, se non c'è, è 1. Quando il coefficiente non appare, cioè ad esempio x, y, z, qui intendo che c'è più 1. Quando il coefficiente manca, significa che è più 1. Quindi monomi diversi differiscono per parte letterale, oppure e o coefficiente. Due monomi sono uguali se e solo se hanno la stessa parte letterale e lo stesso coefficiente. Quindi ogni monomi in realtà è uguale solo a se stesso. Un'altra cosa che serve a caratterizzare i monomi è la seguente. Torniamo a quello di prima, più 12x alla seconda x, il grado di un monomio è uguale alla somma degli esponenti delle lettere. Quindi in questo caso il grado di più 12x alla seconda y è 3. Perché? Perché sommo gli esponenti, quindi 2, qui c'è come se fosse 1, sommati quindi danno 3. Attenzione, questo monomio 3 alla seconda x è di grado 1. Perché? Perché questo 2 non conta. Perché è l'esponente della lettera, questo è del coefficiente. Questo è il coefficiente. Mentre per il grado conta solo la parte letterale. Non conta l'esponente del coefficiente, ma solo gli esponenti delle lettere. Ok? Un'altra cosa, il monomio, anche se un po' patologico, nullo, è quello che ha coefficiente uguale a 0. Quindi il numero 0 è un monomio che ha come parte numerica 0. Come parte letterale, qualsiasi cosa, tanto il risultato 0 per qualsiasi cosa fa comunque 0. Ancora un'altra cosa che serve a caratterizzare i monomi è questa. i monomi si dicono simili se hanno la stessa parte letterale. che significa questo? Stesse lettere con gli stessi esponenti. esempio un terzo xy alla seconda è simile a meno 4xy alla seconda. Ok? perché la parte letterale è la stessa. Ma attenzione, un terzo xy alla seconda e 10x alla seconda xy non sono simili. Perché le lettere sono le stesse, ma gli esponenti sono diversi. Stroff? Sì? In quel caso quello un terzo è un monomio perché riguarda il coefficiente. esatto. In quel caso la parte letterale. Esatto. I coefficienti possono differire. Quello che è importante è che ci siano le stesse lettere con gli stessi esponenti su ciascuna lettera. Questi due monomi hanno lo stesso grado ma non non sono simili. Poi c'è uno monomi che possono essere tra di loro omogenei. Due monomi sono omogenei se hanno lo stesso grado. quindi un terzo xy alla seconda e 10x alla seconda y hanno entrambi grado 3 quindi sono omogenei. Ma non simili. Ok c'è una domanda? No, bene. attenzione ancora una cosa. Il monomio può essere formato anche solo da un coefficiente. Per esempio più 5 è un monomio. Questo monomio ha grado zero. Perché? Perché posso sempre immaginarlo come più 5 moltiplicato per esempio con una lettera all'esponente nullo che vale 1. Quindi qualsiasi monomio che sia privo di parte letterale è considerabile come un monomio di grado nullo. In una parte letterale tutto sommato qualsiasi. Basta che il suo esponente sia zero. ok? Attenzione ancora a questa scrittura che potrebbe presentarsi. se scrivo 2xy alla meno 2 ho scritto un monomio o no? sì. ahimè no. Questo non è un monomio. Perché? Perché y alla meno 2 in realtà è 1 fratto y alla seconda. quindi questa espressione è 2x fratto y alla seconda. E questo non è un monomio. ma come vedremo più avanti è una frazione algebrica. Una frazione algebrica è un'espressione che ha lettere al denominatore. Quindi attenzione se un'espressione letterale ho esponenti negativi questo cessa di essere un monomio. Anche perché se lo fosse sarebbe un monomio di grado negativo. sarebbe un monomio di grado meno 1. Quindi non è un monomio in realtà. ok? se non ci sono domande passiamo alle operazioni tra monomi. se ho monomi diversi che operazioni posso fare tra di loro. Vediamo l'operazione di somma. se ho due monomi simili. 3x più 5x. Quindi ho monomi, ripeto, simili. Allora li posso sommare. e la somma è un monomio che ha ancora la stessa parte letterale dei monomi addendi. e come parte, come coefficiente, ha la somma dei coefficienti. quindi qui avrò 3 più 5x, cioè 8x. quindi se sommo monomi simili ho ancora un monomio. Quindi l'operazione di somma è una operazione interna ai monomi, solo tra monomi simili. quindi, in generale, c'è una domanda? Potrebbe tornare un attimo su. Certo. Qui va bene? Sì, grazie. Ok. E' chiaro che lo stesso vale per la differenza. e qui se c'è una... se ci fosse 3x meno 5x, anche questi posso sommarli. Non posso fare la differenza. In quel caso anche ottengo un monomio. Ma solo se sono simili. Nel caso invece di monomi non simili, quindi in generale, se ad esempio sommo 3x più 2y, questo non mi dà un monomio, cioè non sono sommabili. perché la parte letterale è diversa. E quindi rimane questa espressione e diventa un binomio. cioè due monomi non simili tra loro. Non c'è modo di metterli insieme. come se sommo 2 banane e 3 arance, avrò sempre 2 banane e 3 arance. Se sommo 3 banane e 2 banane, ho 5 banane. Ma se sommo 3 banane e 2 arance, non posso avere né solo banane né solo arance. Per dirla con un esempio. Vediamo per la differenza. se ho, che ne so, meno 7xy più 2 e anzi posso leggere meno 2xy qui posso togliere la seconda parentesi, cambiando segno, quindi meno 7xy meno 2xy e quindi ho un monomio che ha come parte letterale la somma delle due parti numeriche meno 7 meno 2 e la stessa parte letterale degli addendi quindi ho meno 9xy ok? ma anche qui posso sommare o sottrare solo monomi simili quindi in generale somma e differenza e sottrazione tra monomi tra monomi simili questa da un monomio se invece eseguo una somma oppure una sottrazione in generale in generale tra monomi diversi questa mi da un binomio cioè non da più monomio quindi in generale la somma e la sottrazione tra monomi non è un'operazione interna ok domande? diverso invece il prodotto c'è una domanda? si non ho capito se somma e sottrazione sono monomi o binomi non ho capito ok facciamo un esempio allora forse è più chiaro se opero tra monomi simili ottengo un monomio per esempio 2x più 7x fa 9x questo è monomio perché i due addendi hanno la stessa parte letterale ma se i due monomi non sono semplici cioè in generale quindi ho 3x più 5y quello che ottengo x è diverso da y quello che ottengo è un binomio 3x più 5y binomio non ho modo di scriverlo come un monomio in generale quindi ottengo un monomio solo se opero tra monomi simili ovviamente ovviamente sono 2 se sono sommo tra 2 monomi e un conto se ne sommo 3 ovviamente ottengo un trinomio in generale o un polinomio in generale se opero tra 2 monomi ottengo un binomio se opero tra 3, 4, 5 monomi otterò un polinomio se sono dissimili tra loro se sono dissimili tra loro il prodotto invece è un poco più semplice immaginate 3x per che ne so un mezzo xy in questo caso quindi se moltiplico un monomio per un altro monomio ottengo un monomio che ha come coefficiente il prodotto dei coefficienti e come parte letterale il prodotto delle parti letterali rispettando le regole delle potenze quindi x per x da x alla seconda il risultato sarà 3 mezzi in questo caso x alla seconda y idem se ho numeri negativi se ho per esempio meno un quarto a b alla seconda per 3 quinti a alla terza b allora avrò come monomio prodotto meno un quarto per 3 quinti e poi a b alla seconda per a alla terza b mi da meno 3 ventesimi a alla quarta b alla terza per sommare le potenze delle due lettere nel nostro caso a e b e rispettando le regole delle potenze ripeto le regole dei segni ok idem per rapporto quindi in generale il prodotto tra monomi da sempre un monomio quindi il prodotto è un'operazione interna anche se i monomi non sono simili quindi non c'è problema prego ma nel caso fosse per esempio 3x per 2y verrebbe 6x 3x per 2y viene 3 per 2 che fa 6 xy certo ok idem se uno dei due negativi si rispettano le regole che abbiamo visto per il calcolo numerico e per le lettere che valgono le proprietà delle potenze idem per le potenze immaginate di avere meno un mezzo a alla seconda b tutto alla terza qui uso le proprietà delle potenze eseguo la potenza di ogni sua singola parte sia della parte numerica che di quella letterale quindi li trovo con meno un mezzo alla terza che fa meno un ottavo a alla seconda e alla terza che fa a alla sesta e b alla terza quindi anche in questo caso la potenza di un monomio è ancora un monomio ok ok e ancora vediamo l'ultima velocemente poi riprendiamo la divisione tra monomio diversi tra monomio diversi facciamo un esempio che ne so più due quinti a a seconda b diviso tonda meno un sesto meno un sesto a b è un monomio che ha come coefficiente la divisione tra le parti numeriche sotto coefficienti numeriche quindi più due quinti diviso meno un sesto e come parte letterale ha il rapporto tra le parti letterali quindi a alla seconda b fratto a b qui ovviamente b si semplifica e devo fare la sottrazione degli esponenti poi c'è dato che si che è una divisione quindi avrò più per meno che fa meno due quinti diviso un sesto fa per sei e qui mi rimane a quindi ho meno dodici quinti a oppure se preferite il si fanno nelle parti nel la parte letterale come abbiamo visto nelle proprietà delle potenze stesse stessa base si fa la differenza degli esponenti 2 meno 1 è chiaro che qui ottengo un monomio solo se il monomio dividendo è multiplo del divisore cioè devono esserci nel dividendo devono esserci le stesse lettere del divisore con esponenti uguali o maggiore attenzione quindi supponiamo di fare questa divisione 3 x y la seconda diviso 2 x z e qui ho 3 diviso 2 che fa 3 mezzi x diviso x che fa 1 si semplifica e poi rimane y la seconda fratto z questo non è un monomio ma una frazione algebrica perché perché z non figura nel dividendo quindi non posso semplificarla quindi in generale un rapporto una divisione tra due monomi non da un monomio ok ok e direi che per oggi possiamo fermarci qui knock con pot ho ho Grazie.